Io vidi per le coste e per lo fondo piena la pietra livida di fori, d'un largo tutti e ciascun era tondo, non mi parean menampi né maggiori che quei che son nel mio bel San Giovanni fatti per loco dei battezzatori. Così Dante ricorda il battistero di Firenze nel diciannovesimo canto dell'inferno della Divina Commedia. Adesso il simbolo architettonico di Firenze insieme alla cattedrale di Santa Maria del Fiore con la cupola del Brunelleschi tornerà a splendere per tutti, visitatori e fiorentini. Stanno partendo, dopo poco più di un secolo dall'ultimo intervento, i restauri degli oltre mille metri quadrati di mosaici policromi su fondo oro della cupola del Battistero, mosaici realizzati con 10 milioni di tessere policrome della grandezza che varia da 5 a 20 mm per lato, che saranno oggetto di un intervento che intende recuperare la stabilità strutturale, arrestare fenomeni di degrado e riportare alla luce lo splendore del fondo oro e i vividi colori delle tessere vitre. È un impegno importante che porta a completamento gli interventi partiti nel 2014 su questo monumento e che presumibilmente termineranno nel 2028. Per la prima volta sarà possibile per il pubblico vedere da vicino i mosaici della cupola realizzati su disegni preparatori di artisti quali Cimabue e Coppo di Marcovaldo, che ai lati della grandiosa scena del giudizio finale, dominata dalla figura del Cristo giudice, narrano su quattro registri le storie della genesi di Giuseppe Ebreo, di Cristo e del Battista. È un restauro molto importante quello che avverrà a partire da questi giorni, perché tocca quello che è il luogo sorgivo della vita della comunità cristiana, il Battistero, là dove si diventa cristiani. Per poter restaurare la volta musiva del Battistero è stato necessario progettare e realizzare un cantiere innovativo, in grado di rendere accessibile l'intera superficie della volta, ma allo stesso tempo lasciando visibili ai visitatori le pareti. Per ottenere questo risultato è stato realizzato un ponteggio a forma di fungo, alto oltre 30 metri e largo 25. Le visite avranno inizio il 24 febbraio, prenotandosi sul sito dell'Opera di Santa Maria del Fiore. E ora facciamo un immaginario volo transoceanico per spostarci in Messico, nella regione dello Yucatan, dove alcuni archeologi hanno fatto una scoperta rilevante a Cicenizza, uno dei siti più importanti per la storia e la cultura dei Maya. Si tratta di alcune strutture facente parte di un'abitazione destinata probabilmente a una figura di alto rango nelle gerarchie sacre di una città fondata dai cosiddetti stregoni dell'acqua. Secondo gli archeologi non c'erano finora tracce di un simile complesso che probabilmente getterà nuova luce sulle abitudini di vita di tutta la popolazione dell'area, che risale presumibilmente al V secolo a.C. Il sito tra l'altro viene visitato ogni anno da circa 2 milioni di turisti.